Ed ora lasciamo il calcio per parlare invece di pallavolo, prende forma lo staff tecnico di Modena Volley che lavorerà al fianco di Radostin Stoicev, il vice allenatore sarà Dario Simoni che ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni, il tecnico bresciano che nel massimo campionato ha guidato da primo allenatore Montichiari, Bassano e Latina, nelle ultime tre stagioni ha lavorato come secondo a Trento collaborando dal 2014 al 2016, proprio con Stoicev per poi restare in Trentino anche al fianco di Angelo Lorenzetti, in carriera Simoni che è stato vice allenatore della nazionale bulgara, ha vinto lo scudetto con Trento nel 2015 e la Cev Cup nel 2008 a Roma, penso alla mia carriera come una scalata con l'arrivo al Palapanini, sono arrivato in vetta, ora è tempo di dare il massimo per me, per la società e per la città, le prime parole di Simoni dopo l'ufficializzazione del nuovo accordo con Modena Volley.